Professor Schitulli, si parla sempre di prevenzione dei tumori, ma cos'è la prevenzione? Ci sono diversi tipi, c'è quella primaria, secondaria, terziaria, ci vuole spiegare esattamente di che si tratta? Sì, in effetti la prevenzione si distingue in primaria, secondaria e terziaria. La primaria è la rimozione delle cause che possono provocare, comportare lo sviluppo di un tumore. La prevenzione primaria è fatta essenzialmente dal consumo, diciamo così, dei corretti stili di vita, cioè la corretta alimentazione, la lotta al tabagismo e alla cancerogenesi ambientale e professionale e una regolare attività fisica. Abbiamo la prevenzione secondaria, la prevenzione secondaria è l'anticipazione diagnostica, cioè cercare, ci sono dei tumori che noi non possiamo diagnosticare o prevenire, ma possiamo diagnosticarli solo precocemente, attraverso la tecnologia messa a nostra disposizione e questo riguarda la maggior parte dei tumori, la maggior parte delle patologie oncologiche, per esempio prevenzione secondaria, cioè diagnosi precoci, noi la possiamo fare nei tumori del colonvetto, nei tumori della mammella, del collo dell'utero, della prostata, della cute, del cavo orale. Fare prevenzione per tutti questi tumori, per tutte queste patologie significa poter arrivare ad una diagnosi e ad una guaribilità nell'80% dei casi, se mettessimo in atto tutto ciò che è il nostro corredo, la disponibilità dei mezzi a nostra disposizione. Poi abbiamo la prevenzione terziaria, cioè questa riguarda la persona che ha già un vissuto cancro, noi possiamo prevenire la possibilità di una ripetizione della malattia, attraverso soprattutto i controlli, attraverso quello che noi definiamo come follow up. Ecco l'importanza di queste tre assi di prevenzione, se mettessimo in atto questo attraverso il servizio sanitario nazionale e regionale, il cancro sarebbe da considerare oramai una malattia superata, una malattia cronica, perché questo è il nostro obiettivo, parlare di malattia cronica e quindi di poter vivere anche con il cancro, come si vive con il diabete, l'ipertensione, l'artrosi, continuare in un modo dignitoso la propria vita.